Diversi tipi di farmici tra i quali anche quelli antitumorali per un valore di oltre 10.000 euro sono stati rubati dalla farmacia dell'ospedale civico di Ostuni e quanto scoperto nella mattinata di ieri sabato 4 febbraio 2017 nel nosocomio della città bianca quando la farmacia è stata aperta. Segni di effrazione sarebbero stati trovati sulla porta d'ingresso al locale che si trova in un padiglione all'interno dell'ospedale e che era stato aperto per ultima volta giovedì scorso il che fa ipotizzare che il colpo sia stato consumato nelle ultime 36 ore della settimana presumibilmente nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio. Sul posto per i rilievi del caso e l'apertura delle indagini per risalire i responsabili gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni. Considerando la presenza delle guardie giurate all'ingresso della struttura il colpo deve essere stato studiato nei minimi dettagli con i ladri che sapevano come muoversi nella farmacia e soprattutto come portare i farmaci all'esterno del nosocomio. I prodotti su cui i malviventi si sono concentrati sono quelli destinati a pazienti oncologici o affetti da tritereumatoide che sul mercato nero hanno un valore enorme.